Musica Benvenuti sulla Luna nel settore acconciatura Vi chiederete proprio questo bizzarro cappello in testa Perché? Beh è semplice, oggi io e gli equipaggio Abbiamo imparato il montaggio a binario Vi mostro come si fa Allora, prendiamo la sezione di 1 cm barra 5 mm Puliamo la ciocca pettinandola e la teniamo a 90 gradi Prendiamo un bigoto Lo mettiamo sulla punta Avvolgiamo la punta sotto il bigoto E giriamo Andiamo a pinzare tutto con uno slip Ok Allora, prendiamo il calcolo e guidiamo sulla nostra modella lunare E si parte per un nuovo look Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille